25.000 mascherine FFP2 ed oltre 8.000 di tipo chirurgico è la nuova importante fornitura arrivata in questi giorni attraverso il sistema della protezione civile nazionale all'Anmil di Pistoia, l'associazione mutilati ed invalidi del lavoro. Le 33.000 mascherine saranno in primo luogo, è stato spiegato dai responsabili locali dell'associazione, destinate a persone sofferenti di patologie respiratorie. Persone, cittadini sensibili, cioè prima di tutto anche ai nostri soci, tutti ammalati di malattie professionali da asbestia e ristio chimico e con malattie e patologie cardiorespiratorie. Come avverrà la distribuzione e da quali comuni comincerete? Bene, è nostra intenzione in funzione anche della quantità delle mascherine che abbiamo a disposizione cominciare questa distribuzione nei comuni di Pistoia e nei comuni di Quarrata per poi, se va bene e tutto va avanti, estendere questa iniziativa a livello regionale. Nell'occasione i vertici locali dell'Anmil hanno fatto una proposta per le vaccinazioni contro il Covid che per le persone seguite dall'Anmil, considerate soggette a rischio, dovrebbero cominciare dose disponibili permettendo tra la fine di febbraio e di primi di marzo. Si chiede l'estensione di tutti che possono essere vaccinati a prescindere dall'età, tutti coloro che soffrono di quelle patologie che sono legate all'apparato respiratorio. Noi chiediamo che gli ordini dei medici o medici segnalino all'anime in questo caso chi sono soggetti a rischio perché la salvaguardia a oggi rimane solamente purtroppo le mascherine.